buonasera a tutti benvenuti di nuovo nello stanzino del barba per questa diretta dell'intervallo di Galles Francia eh mi sentite bene intanto spero di sì ehm mi merito un premio mi merito un premio stasera perché ho rinunciato a vedere la partita dell'Italia under venti per eh dovere nei confronti eh di di chi segue la pagina perché giustamente uno dice faccio la diretta all'intervallo devo vedere la partita per avere qualcosa di cui parlare io mi sono tolto il pane di bocca per voi come si dice dalle mie parti per non ho guardato l'Italia under venti che sta vincendo contro la Scozia eh per guardare sta sta fetecchia perché io veramente una partita di una brutturia eh veramente allucinante eh la Francia che il Galles è inesistente cioè a parte qualche folata in attacco eh boh non so io è impalpabile come lo zucchero a velo io non so veramente viva che cosa stia combinando eh l'unico del Galles che secondo me si è messo eh un po' in risalto è Catbet che io a volte io dico tante stupidaggini però a volte ci do anche di mh vedendo la partita degli Ospreys qualche mese fa dissi ma bada ma bada Catbet cioè nonostante l'età perché poi non è un ragazzino eh guarda un po' Catbet in che condizioni meravigliose si trova starebbe bene nazionale però dicevo c'è Josh Adams e Lewis Rizamit uno come Catbet sicuramente non potrebbe mai arrivare invece c'è arrivato e secondo me è l'unico che sta brillando nel Galles e veramente no io ho durato fatica a decifrare questo Galles quando è uscita la formazione e duro fatica anche ora a capire perché eh sì grande difesa mi in attacco veramente niente di niente è disarmante questa cosa d'altra parte di là c'è una Francia che parte eh non dico piano perché dire che la Francia parte piano è un po' un neufemismo parte con eh con attenzione o un po' con il freno a mano tirato senza quelle tipiche folate che caratterizzano la Francia nel suo gioco in attacco e e nei primi minuti quando prova a accelerare e a pestare nell' acceleratore eh fa errori eh cadono palloni a destra a sinistra e quindi alla fine anche il merito della difesa del Galles sì 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 un po' di pressione ma alla fine secondo me la Francia se l'è complicata da sola questa partita tant'è che poi al nono minuto quando eh si sono decisi a mettersi tutti d'accordo hanno fatto una meta veramente meravigliosa e eh ma tra l'altro dico ho detto partita brutta ma il rischio di segnare meta da da entrambe le parti da prima fase da mischia ordinata cioè io veramente la Francia ha rischiato di fare meta da prima fase da mischia ordinata non ha fatto meta perché c'è stato un brutto passaggio di Villiers a Moefana se no era meta fase mischia e dall'altra parte uguale su quel calcetto calcio insomma bello di Hathbert che poi eh per un rimbalzo fortuito è uscito fuori quindi io non so è veramente una partita eh indecifrabile l'unica cosa bella di questa partita è l'equilibrio del risultato l'equilibrio del gioco che eh per ora non è stato rotto eh però veramente ci sono stati eh cinque minuti fra il trentesimo e il trentacinquesimo in cui si è visto di tutto sembrava che giocassero a palla avvelenata infatti Carley a un certo punto ha messo il fischietto in tasca ha detto ora li guardo li lascio sfocare un po' e poi quando si sono sfogati fischio qualcosa li fermo perché era veramente come si dice come dice un tecnico famoso era il gorillaio era veramente il gorillaio ho detto Carley metto Carley che mi sta piacendo molto un'ottima direzione di gara veramente un'ottima gestione infatti io se non fosse che non è sempre continuo nelle prestazioni a volte c'ha qualche mh qualche partita un po' negativa però per me starebbe all'altezza di Duke Pierce è un arbitro veramente di gran qualità quando è in giornata e oggi gli ho visto fare delle cose veramente egregie veramente l'ho visto sempre col polso della situazione ha lasciato giocare quando era il caso di giocare e ha messo un punto quando c'era a mettere un punto tendenzialmente quando c'è questa gran confusione si fa un po' l'errore di over referring no cioè si tende a fischiare perché troppo un fallo di confusione si vede un pallone rubato che magari uno cade a terra no questo non va bene fischio invece secondo me la cosa intelligente che ha fatto Carley oggi è fischiare il chiaro e l'ovvio e basta se non ho visto non sono sicuro non fischio e questo secondo me è stato un valore aggiunto della partita non ha risolto la confusione perché poi quando ci sono stati questi momenti di gioco rotto allucinanti forse c'era bisogno di mettere ordine siamo abituati a vedere mettere ordine in quel casino lì ma alla fine effettivamente se non c'è un fallo perché dovrei fischiare quindi bene e vorrei sottolineare molto bene Andrea Piardi che non so se l'avete notato non è stato detto è stato notato in diretta da ehm dai commentatori di Sky ma la palla calciata da Dan Biggar esce eh esce in touch fuori dall'area dei ventidue e dentro l'area dei ventidue il pallone viene raccolto tant'amac che batte veloce e calcia diretto in touch ora siccome il pallone è uscito da fuori i ventidue quel pallone è stato portato dentro come se fosse stato in campo e quindi giustamente sono tornati indietro giustamente complimenti a Piardi giustamente anche Carli che comunque eh si si affida ai suoi assistenti e quindi eh in da questo punto di vista mh ecco ripeto ha fatto un'ottima gestione di gara e eh Edgar Foddy mi dice barba che vincerà io 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 non ne ho la più pallida idea perché io stento a credere che la Francia possa continuare a essere così brutta per ottanta minuti è vero che si dice sempre la Francia a livello caratteriale la Francia che quando non ha il pallino della situazione la Francia quando non è in controllo della partita perde la testa bla 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 è vero ok però davvero oggi chi gli ha dato noia cioè io l'ho detto alla prima partita purtroppo forse all'ultima eh con il Galles non sarà facile però io il Galles ci avrei voluto giocare subito perché non voglio essere allora siccome ci sono degli amici gallesi che vivono in Italia Angelo, Ras, io non ce l'ho col Galles ovviamente perché non c'è nessun tipo di motivo ce l'ho con Pivac perché Pivac ha vinto un sei nazioni col col culo col culo perché Pivac ha vinto un sei nazioni a suon di cartellini rossi ha fatto ha debuttato alla Nations Cup e ha fatto io veramente delle figure pessime dopo aver vinto le sei nazioni grazie a cartellini rossi e perché dall'altra parte c'era la Francia che ci pensava a buttare via occasioni per vincere le sei nazioni quest'anno giustamente si gioca al cucchiaio di legno con l'Italia e sicuramente vincerà il cucchiaio di legno l'Italia per carità di Dio però abbiamo ristabilito gli equilibri del Galles di Pivac io lo dico senza vergogna poi probabilmente non tutti sarete d'accordo con me però eh il Galles di Pivac secondo me non funziona veramente io duro fatica anche a capire determinate scelte di formazione perché Jonathan Davis a dodici perché far tornare in campo Navidi tutto sommato se l'è cavata ma Navidi viene da ottanta minuti di partita dopo cinque mesi di stop è stato lasciato a casa Tim Basham perché eh boh perché rego di aver fatto un po' di calo nell'ultimo ma ma ragazzi uno come Tim Basham alla società lo mettiamo fuori perché ha fatto una partita leggermente meno consistente e facciamo giocare uno come Navidi e ripeto eh e anche magari al rischio di ricaduta non lo so io a questi livelli non lo so quanto possano essere gravi gli infortuni quanto ci sia eh il rischio di ricaduta eccetera ma Navidi poteva essere riutilizzato in un in un altro momento e boh vabbè veramente mi dispiace che alla fine questa diretta si sia eh ridotta a una un'invettiva contro Pivac eh però alla fine eh sì sono d'accordo sono d'accordo con Enrico allora vedrai che il Galles vince e purtroppo ma purtroppo eh il bello delle seme azioni è che le partite a parte quando gioca l'Italia sono tutte equilibrate più o meno eh ci sono degli esploat però questa è una partita che per quanto sia brutta da vedere perché a me non piace vedere giocare così è comunque una partita equilibrata e quindi è spettacolo che ti tiene attaccato alla televisione fino all'ultimo minuto quindi chissà che Galles non riesca a vincere questa partita tirando non so cosa fuori dal cilindro perché veramente eh la Francia la sta buttando via quindi concluderei questa diretta no mi sembra troppo brutto dire che se Galles vince perché perde la Francia no non è vero se la stanno giocando alla pali giocano a chi gioca peggio giocano a tirarsi le pallonate nel viso e eh vediamo chi vincerà a questo strano sport delle pallonate nel viso quindi eh Edgar dice nell'intervallo sulla BBC hanno appena presentato il woman six nations farai i commenti anche di quel torneo no dopo dopo il sei nazioni mi vado a riposare perché per me è stata una maratona infernale mi sono molto divertito c'è stato molto piacere anche avere a che fare con tutti voi che mi avete commentato via via sia nella pagina nelle dirette ma basta mi vado a riposare e soprattutto torna ad allenarmi per tornare in campo ad arbitrare finalmente o barba leggero la Fiorentina oggi mi figliolo ha fatto il crociato anteriore fagli l'aguri e magari li porti bene ho tanti auguri di pronta guarigione io so qualcosa sono stato a casa tre mesi per un banale incinente di motorino e ripeto la settimana prossima ricomincio ad allenarmi magari non mi frega niente a nessuno però in qualche campo mi rivedrete col fischietto in mano sperando di eh essere eh no bravo quanto a Carley non è possibile perché ci vuole anni di esperienza però sperando di fare delle belle figura delle belle figure come stanno facendo appunto eh gli arbitri che sono in campo oggi. Io vi ringrazio vi saluto ci vediamo domani nelle dirette degli intervalli delle due partite di domani pomeriggio di Italia-Scozia e della partita dell'Irlanda di Inghilterra e Irlanda. Vi saluto vado a bere una birra si è seccata un po' la gola stasera ho parlato tanto eh sono andato un po' oltre. Vado a bere una birra mi vi saluto e ci vediamo domani. Grazie. Grazie. Grazie.